Per noi è un lavoro, è una passione prima di tutto, ma poi è un lavoro, perché quando stai dalle 7 alle 8 ore in palestra e fai tutti i giorni questo, avendo una mattina forse di riposo, chi ha la nazionale poi durante l'estate difficilmente si ferma, questo è un lavoro a 360 gradi.